Per ordine dell'eccellentissima Regenza Pro Tempore, alluncio al popolo della libera terra di San Marino che il Consiglio Grande Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso Patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani Reggenti per il semestre 1 ottobre 2012-1 aprile 2013 i signori Teodoro Lonfernini I, Denise Bronzetti I. Sposata è madre di due ragazzi, Greta e Mattia. Denise Bronzetti sale per la prima volta alla Suprema Magistratura. La politica la vede impegnata in prima persona già all'età di 15 anni, quando entra a far parte del Movimento Giovanile del Partito Socialista San Marinese. Componente della Commissione Pari Opportunità, dal 1998 al 2002, è stata funzionario sindacale della CSDL e membro del Consiglio Direttivo Confederale. Stretta collaboratrice del Segretario di Stato alla Giustizia fino al 2003, è entrata proprio in quell'anno nella Segreteria Politica del Partito Socialista e successivamente in quella del PSD, partito di cui oggi è Presidente, oltre che componente della Segreteria del Consiglio Direttivo. Eletta per la prima volta in Consiglio Grande e Generale nel giugno del 2006, è membro del Gruppo Nazionale della Repubblica di San Marino presso l'Unione Interparlamentare. Già Presidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali, è componente della Commissione Finanze, Bilancio e Programmazione. Teodoro Lonfernini, 36 anni, è sposato e ha tre figli. Laureando in giurisprudenza, lavora presso lo studio notarile di famiglia. È Presidente del Consiglio Centrale del Partito Democratico Cristiano San Marinese, partito a cui si iscrive dieci anni fa. Nel 2006 entra a far parte della direzione e un anno dopo diventa direttore responsabile del San Marino, l'organo di stampa ufficiale del partito. Nel 2008 viene eletto in Consiglio Grande e Generale, fa parte delle commissioni esteri, finanze per le politiche territoriali e anche membro della Commissione Interparlamentare. Sale per la prima volta alla Suprema Magistratura dello Stato San Marinese.